Quando si acquista un servizio di supporto da aziende, queste vogliono essere contattate solo in caso di problemi. Polycom collabora con i suoi clienti affinché tutto vada bene. Ecco perché abbiamo migliorato il nuovo servizio a valore aggiunto di Polycom, Advantage. Rapida acquisizione di nuovi utenti, informazioni dettagliate sugli investimenti e accesso prioritario agli esperti del settore. Con il servizio Advantage di Polycom, l'uso degli strumenti di collaborazione è più rapido e più efficace che mai. Il servizio Advantage include Polycom Adoption Portal Starter Edition, un'applicazione self-service che consente di familiarizzare con i nuovi strumenti, offrendo le competenze necessarie per contattare e collaborare con colleghi, partner e clienti immediatamente e ovunque, dalla scrivania, in viaggio o durante una conferenza. Il servizio Advantage attiva il potenziale collaborativo degli utenti. Inoltre, per rendere il personale IT più efficiente, Polycom ha sviluppato alcuni strumenti per offrire report analitici, chiari e semplici, con informazioni sull'uso e sulla disponibilità della collaborazione. Partendo dai dati, Polycom fornisce informazioni sulle riunioni ben riuscite, sull'uso delle risorse e sullo stato complessivo della soluzione Polycom. Intendiamo far comprendere le aree in cui le risorse sono più efficienti e i settori in cui è possibile migliorare. Informazioni sulla disponibilità e sulla capacità per una migliore pianificazione. Informazioni dettagliate e preziose. Grazie all'esperienza di Polycom nella collaborazione video, il servizio Advantage di Polycom può anche fornire un approfondito report semestrale per comprendere come la collaborazione si riveli all'altezza dei propri pari e quindi aumentare i vantaggi competitivi. Inoltre, in caso di problemi, Polycom offre un accesso prioritario agli esperti del settore, in qualsiasi momento, per risolvere i problemi al più presto, rapida acquisizione di nuovi utenti, informazioni dettagliate sugli investimenti e accesso prioritario agli esperti del settore. Ecco il vantaggio Polycom. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS